Musica Benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale. Dieci anni fa il terremoto di San Giuliano di Puglia e il crollo della scuola Jovine nel paese più colpito è stata celebrata la giornata della memoria in ricordo delle vittime. C'era anche l'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso che ha preferito non commentare le ultime vicende giudiziarie legate al sisma dell'Aquila. Sentiamo Fabrizio Occhionero. Maria Di Renzo Luigi Fettacciato Giovanna Di Tucci Tra un rintocco e l'altro legge i nomi delle 28 vittime del crollo della scuola Jovine. Lei è Cinzia Scafidi che un figlio l'ha perso in un altro crollo avvenuto al liceo Darwin in provincia di Torino. Nella giornata della memoria esperienze così drammatiche si condividono e si ricorda anche l'impegno delle famiglie per fare luce sulle tragedie come il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha ribadito nel messaggio ricevuto e letto al cimitero dal Presidente del Comitato Vittime Antonio Morelli. Tante esperienze che attraversano questi dieci anni e accompagnano il dolore e la vita che continua. Ogni volta a San Giuliano tornano in molti soccorritori, volontari, istituzioni. Si avviano verso il Parco della Memoria dove oggi un pilastro rappresenta anche un monito. Ci sono i genitori che sostano qui dove tutto è crollato e vanno avanti insieme a chi c'è ancora. Chiaramente solo lui abbiamo adesso. La vita va avanti, sì, è così. Anche se c'è un posto vuoto. Resta solo la sua stanza, il suo letto e basta. Al Parco si rinnova la solidarietà da parte di tutte le istituzioni, anche con i messaggi inviati dal Ministro dell'Interno Cancellieri e dal Presidente della Camera, Fini. Un invito alla cittadinanza e soprattutto ai familiari delle vittime è quello di continuare quel lavoro che già stanno facendo, di mantenere sempre ferma la memoria a quella tragedia, ma soprattutto pensare che nel futuro ancora ci aspetta tanto lavoro per fare in modo che non si ripeta più un episodio del genere. In disparte sosta il cittadino onorario di San Giuliano, Guido Bertolaso. Lui preferisce non commentare le ultime vicende giudiziarie legate al sisma dell'Aquila, quando lui era ancora responsabile della protezione civile. E al di là di quelle che sono le inevitabili polemiche, bisogna poi trovare una unità di intenti e bisogna lavorare tutti insieme per riuscire a risolvere i problemi e a garantire quantomeno la ricostruzione di quelli che sono i danni materiali, sapendo che purtroppo i danni morali sono praticamente impossibili da restituire. Sono due le generazioni che oggi vivono a San Giuliano, quella che quel giorno c'era e quella nata dopo. Tutti insieme possono ancora ricostruire la speranza. Queste le immagini di San Giuliano di Puglia oggi, nel giorno del ricordo della memoria delle vittime del terremoto. Ma il 31 ottobre di dieci anni fa, Telemolise raccontò quella terribile tragedia con una lunga diretta. Adesso vi facciamo vedere un estratto dello speciale che è andato in onda questa sera alle 21.15 in replica a mezzanotte e domani anche a partire dalle 10.30 e poi alle 15. è stato realizzato dal nostro direttore Manuela Petescia e da Angelo Pompei. Una legge non scritta che se ne sta silenziosa in un angolo del cuore di ognuno di noi vorrebbe che la sofferenza, la malattia e la morte giungessero con un senso di giustizia, che colpissero soprattutto le persone cattive come una specie di castigo. Poi accade che un bambino che non ha avuto nemmeno il tempo di essere cattivo, che noi avevamo amato e protetto con tutte le forze, magari indossava la maglia di lana e recitava le sue preghiere la sera, accade che quel bambino si ammali e muoia lo stesso. Quando muore un bambino è un mondo intero che crolla e a volte crolla anche la fede. Quando ne muoiono 27 tutti insieme, crolla il senso della vita. Telemolise seguì in diretta senza fermarsi mai per 40 ore consecutive il terremoto di San Giuliano, ma non lo fece per bravura né per inseguire riconoscimenti, lo fece per disperazione. Questa TV con tutti i suoi uomini quella notte lavorò in condizioni terribili, perché le strade e le linee telefoniche erano interrotte, perché mancava la corrente elettrica, perché i tecnici e i giornalisti con le loro pesanti attrezzature erano costretti a camminare a piedi chilometri e chilometri prima di raggiungere le diverse postazioni. Questa TV schierò tutte le sue risorse tecnologiche mettendosi a disposizione completa della Prefettura, delle unità di soccorso, della protezione dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine e perfino dei media nazionali e internazionali che chiesero e ottennero il permesso di trasmettere attraverso di noi. Tra una notizia e l'altra, tra una lacrima e l'altra, firmammo decine e decine di liberatorie, consegnando le nostre immagini gratuitamente a tutte le TV che ne fecero richiesta. Perché così decise quella persona buona e grande galantuomo, nel senso più antico e prezioso della parola, che è stato Lelio Pallante, l'editore di Telemolise. «Non voglio lucrare sul dolore della mia terra», disse. Quel gesto fu la più grande lezione di amore, di rispetto e di civiltà in un mondo, quello dei media, che spesso commercia e si arricchisce proprio sulle immagini della sofferenza e della morte, trasformandole in un grande spettacolo a pagamento. Non fu dunque una corsa verso chissà quale podio, quella di Telemolise, nei giorni del terremoto di San Giuliano di Puglia. Ma fu solo senso del dovere e del rispetto per una comunità lacerata. Fu solo la cronaca, minuto per minuto, della disperazione di quella terra. Una disperazione che travolse anche noi. Noi che ci ritrovammo a pregare in diretta, davanti a quella scuola, insieme alle mamme e ai papà. Noi che esultammo e gridammo di gioia per ogni bambino estratto vivo dalle macerie. Noi che piangemmo in diretta su ogni bambino coperto dal telo, fino ad Antonio, fino a Carmela Cimilio. A partire dalle prime notizie delle 11.33, incomplete e sommarie, fino al termine, quando non c'era ormai più nulla da dire e più nulla da sperare, tutto quello che accadde nelle 40 ore della diretta di San Giuliano lo abbiamo sintetizzato in questo filmato che vedrete tra poco. Evitando le immagini più crude e cercando di consegnarvi la cronaca più sobria possibile, la storia triste di un piccolo comune del Molise è sconosciuto al mondo che il destino e la negligenza umana in pochi secondi trasformarono in sudario, metafora della sofferenza e del dolore. Ci sono impacchettati il secondo e il primo solare. Bisogna operare con le mani e con delicatezza perché ci sono le persone sotto queste macerie. I bambini della scuola alimentare sono rimasti qui sotto. Credo che sono tutti raggruppati sotto una trama. Quanti ce ne stanno? Sono 54 bambini, non sono 78 maestri, non lo so. Sono 54 bambini, non lo so. Sono 54 bambini, non lo so. Sono 54 bambini, non lo so. vedendo i soccorsi al vieto di Larino. Adesso sono uccide due maestri e poi stanno altri bambini che stanno scendendo una volta. Quasi tutti salvi? Per il momento tutto salvo. Purtroppo siamo stati subito smentiti da una notizia drammatica. C'è il primo morto ed è purtroppo, come temevamo, uno dei bambini della scuola elementare di San Giuliano di Puglia. Puoi dire con certezza, Lino, che il numero delle vittime è salito? Allora, secondo fonti non ufficiali, almeno sotto il solaio ci sarebbero, in un'aula, i corpi di tre bambini, però non sono fonti ufficiali, sono ufficiose. Sì. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il ragazzo è ancora in vita. Di conferme non ce n'ho, però ho pensato che era lui, ho chiamato, ho detto il suo nome, ho sentito una voce che mi chiedeva aiuto. Io stavo togliendo i detriti che stavano sul solaio. Insieme al suo figlio forse altri 40 bambini. Ma forse di più, perché dovevano essere 60 complessivamente. La mamma di Gianluigi! Gianluigi! La mamma di Gianluigi! Giulia! Allora se lo vedete, gli dite che il bimbo sta bene e va giù a termine. Va bene, va bene. E c'è un aggiornamento della prefettura di Campobasso che ci dice ufficialmente quindi che sono 29 le persone vive estratte finora dalle macerie della scuola di San Giuliano di Puglia. Attualmente tutte ricoverate in ospedale. Sul posto stanno scavando a mano. E stanno utilizzando anche un autogru nonché unità cinofile e fotoelettriche. Comunque la prefettura ci dice che il numero delle vittime potrebbe aumentare con il passare delle ore. Al prossimo episodio Al prossimo episodio Il Consiglio dei Ministri ha varato oggi il decreto legge sul riordino delle province, delle regioni a statuto ordinario che passano da 86 a 51, comprese le 10 città metropolitane. Decreto che prevede l'accorpamento di Isernia a Campobasso a partire dal gennaio del 2013 e aprirà una fase di transizione fino a novembre del 2013 quando ci saranno nuove elezioni. Duro il commento del presidente della provincia di Isernia, Mazzuto. Il governo ha salvato le province di Sondrio e Belluno perché territorio montano, ha spiegato. Isernia, come marittima ha giunto, forse hanno preso una svista. L'esecutivo di Monti, ha detto ancora Mazzuto, prima va a casa e meglio è, fa distinzione tra le montagne del sud e quelle del nord. Siamo di fronte all'azzeramento, alla cancellazione della storia del Molise. I nostri parlamentari, ha continuato, non possono prendersi la responsabilità di convertire in legge questo decreto che è l'omicidio della democrazia rappresentativa. Mazzuto ha annunciato che tra qualche giorno anche la provincia di Isernia, come la regione, presenterà ricorso alla Corte Costituzionale. Il ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, ha confermato che le elezioni regionali di Lazio, Lombardia e Molise si svolgeranno in un unico giorno e la prima data utile è il 27 gennaio. Intanto, nella nostra regione, partiti e movimenti si posizionano in vista dell'appuntamento con il voto. Il PD ha riunito la sua direzione per discutere di alleanze e leadership della coalizione, senza escludere le primarie. Sentiamo Giovanni Minicozzi. Come capita spesso, Roberto Ruta ha indovinato anche la data per convocare la direzione allargata all'Assemblea regionale del PD in coincidenza con la sentenza del Consiglio di Stato sull'annullamento delle elezioni, con una settimana di anticipo e con un solo punto da discutere, elezioni regionali del Molise. Il gruppo dirigente ha salutato con un applauso la sentenza e Paolo Frattura. Programmi, alleanze e leadership della coalizione sono stati invece i temi più importanti affrontati nella relazione del segretario. Noi pensiamo che si apre per questa regione una straordinaria opportunità, quella di aprire una nuova stagione all'insegna del cambiamento e candidiamo il Partito Democratico alla guida di questo processo di cambiamento, di questo processo che dovrà portare all'affermazione anche di una nuova classe dirigente. Con quale leadership? Guardi, a noi il ragionamento sulle leadership interessa relativamente. Credo che noi bisogna ripartire dai problemi della gente, dai grandi temi, dalle grandi questioni che questa regione ha davanti. Noi metteremo in campo le nostre idee, metteremo in campo le nostre proposte, sarà attorno a queste idee e a queste proposte che costruiremo anche le alleanze. Ma i problemi non mancano, soprattutto dopo la dichiarazione tombale rilasciata da Massimo Romano a Il Giornale del Molise, con la quale l'esponente di Costruire Democrazia ha detto chiaro e tondo che al centro-sinistra serve un nuovo leader. Dal canto suo, l'Eva ha ribadito che la coalizione non può fare a meno di Massimo Romano, mentre Frattura ha replicato in tempo reale dicendo no ai rottonatori domestici. Una cosa non possiamo fare, che dopo aver determinato lo scioglimento del Consiglio regionale noi riconsegniamo questa regione nelle mani di Michele Iorio. Questo non lo consentiremo a nessuno. Se le primarie possono essere uno strumento di sintesi, che primarie siano con grande serenità. Io non immagino un centro-sinistra senza Massimo Romano. Ma considerato che forse si voterà il 27 gennaio e non c'è tempo per le primarie, la domanda è d'obbligo. Leva, Paolo Frattura e Michele Fanelli. Resta Danilo Leva? Danilo Leva io credo che abbia un ruolo in questo momento non invidiabile. Ci attende un compito particolarmente difficile perché rimettere tutti i pezzi insieme non sarà sicuramente facile. Il segretario nazionale del PDL, Angelino Alfano, ha espresso la sua solidarietà a Michele Iorio dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato definitivamente le elezioni regionali. Un ricorso che nulla toglie alla vittoria elettorale di un anno fa, ha detto il presidente Iorio, ha il pieno diritto di ricandidarsi per tornare alla guida della sua regione, ha concluso Alfano. Ma a raffreddare gli animi è stato il coordinatore regionale del PDL, Ulisse Di Giacomo Iorio. Ha il diritto a riproporre la sua candidatura, ha detto Di Giacomo, ed è un possibile candidato, ma non è il candidato che invece dovrà essere il risultato di un'attenta riflessione, di una profonda discussione e soprattutto di un'ampia condivisione, dovendo essere per forza di cose un candidato di coalizione. Tino Vardè questa mattina ha salutato i dipendenti di Palazzo San Francesco e la cittadinanza isernina nel corso di una sobria cerimonia. Il commissario prefettizio di Isernia da domani prende servizio a Ragusa in qualità di prefetto. Intanto Vardè come ultimo atto ha approvato il bilancio di previsione 2012 che prevede aumenti per l'Imu sulla seconda casa e per l'Irpef. Enzo Di Gaetano. Un saluto per i dipendenti e un messaggio per gli isernini, così Tino Vardè dopo quattro mesi di reggenza lascia il comune di Isernia per andare a Ragusa in veste di prefetto. In attesa che il Viminale nomini un nuovo commissario o il Tar rimetta in piedi l'amministrazione De Vivo, le sorti di Palazzo San Francesco saranno rette dal commissario vicario Giovanna Lombardi della prefettura di Isernia. Ma ascoltiamo un breve cenno del saluto agli isernini fatto da Tino Vardè. Io posso dire che ci ho messo il massimo impegno per rendere un servizio alla città e spero di essere riuscito a fare qualche cosa di buono, a lasciare un contributo positivo. Ne approfitto per salutare tutti i cittadini di Isernia per la loro accoglienza. Isernia è una città laboriosa ed ospitale che merita di andare sempre più avanti. Sono sicuro che l'attuale momento di difficoltà politica ed economica sarà superato brillantemente e per conto mio, ripeto, ho cercato di dare un contributo positivo e spero di essere riuscito. E passiamo alle note dolenti. Vardè, come ultimo atto, ha approvato il bilancio di previsione 2012 e, non potendone fare a meno per evitare di sforare il patto di stabilità, è stato costretto ad aumentare l'IMU sulla seconda casa del 3x1000 e l'IRPEF del 2x1000. Il conto consuntivo l'abbiamo chiuso, è stato approvato, l'abbiamo riformulato. Il bilancio di previsione è pronto, presto sarà formalizzato, chiuderà in pareggio e si profila anche il rispetto del patto di stabilità. Ma per ottenere questi importantissimi risultati abbiamo dovuto ritoccare l'aliquota IMU a seconda casa. Ci tengo a precisare che l'aliquota IMU prima casa è rimasta inalterata, quindi i proprietari di una sola casa non dovranno pagare un centesimo in più. e un piccolissimo ritocco anche dell'IRPEF, ma di ordine veramente molto contenuto e poi basta, tutte le tariffe sono rimaste invariate, i canoni e quant'altro, è rimasto tutto invariato. Occorre fare chiarezza una volta per tutte sulla collocazione politica dei consiglieri Cancellario e Niro in seno al Consiglio Comunale di Campobasso. A dirlo è il sindaco Luigi Di Bartolomeo. Vada se ha aggiunto che il voto contrario alla deliberazione IMU e al bilancio di previsione 2012, le loro dichiarazioni rilasciate peraltro dai banchi dell'opposizione, hanno provocato un vulnus insanabile che, a concluso Di Bartolomeo, li pone irrimediabilmente al di fuori della maggioranza consigliare. E' cominciato in Tribunale a Campobasso il processo all'indiano accusato di sfruttamento dell'immigrazione clandestina, udienza rinviata al 14 novembre per l'incompatibilità di uno dei giudici del collegio. Sentiamo. Tarsem Singh, detto Sonni, da 18 anni in Italia con la famiglia era in aula, era con il figlio seduto a fianco al suo avvocato Maria Assunta Baranello. Non ha voluto farsi riprendere dalle telecamere. Oggi ha avuto inizio il processo che lo vede imputato per sfruttamento dell'immigrazione clandestina. L'indiano fu arrestato dalla squadra mobile. Dalle carte dell'inchiesta condotta dal sostituto procuratore Fabio Papa, è emerso che l'uomo faceva entrare regolarmente in Italia alcuni suoi connazionali, uomini e donne, e per questo, ricevendo dagli stessi in genere gente povera, circa 10.000 euro a testa, avrebbe intascato in totale quasi 750.000 euro. Una volta arrivati i connazionali, i documenti per regolarizzarli, sostiene l'accusa, venivano trattenuti da Sonni, che anche con l'aiuto di complici, avviava gli immigrati alla clandestinità, costringendoli a vivere nell'indigenza più totale. Alcune delle vittime hanno trovato il coraggio di denunciare quell'uomo che li avrebbe ingannati, che aveva un'attività, vendeva kebab a Campobasso. È finito prima in carcere, ora è ai domiciliari, con il braccialetto elettronico al polso. Il suo avvocato è pronto a dimostrare le proprie tesi. E' lunga la lista dei suoi testimoni, ben 50. Quella di oggi è stata un'udienza tecnica, rinviata il 14 novembre dal presidente Abbate. Il collegio ha infatti accolto l'eccezione sollevata dalla Baranello sull'incompatibilità di uno dei giudici, Stefano Calabria, perché aveva fatto parte del riesame, il quale ha chiesto di astenersi dal trattare il processo. Prima di rinviarlo, la consigliera regionale di parità ha avanzato la richiesta di costituirsi parte civile rappresentata da Gian Federico Cecanese, analoga richiesta anche dai legali di quattro indiani, presunte vittime di Sonni, e dall'associazione On the Road Onlus, che tutela le persone vittime di immigrazione clandestina. Richieste che dovranno essere presentate di nuovo il 14 novembre, quando saranno valutate dai giudici. Non ha avuto, per fortuna, conseguenze gravi. L'incidente che si è verificato nel primo pomeriggio lungo la Fondovalle Tappino, in Contrada Selva, Campo di Pietra, solo lievi ferite per un ragazzo di 17 anni, che con la sua macchina elettrica, forse a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, sbandato uscendo fuoristrada e ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, questi ultimi per accertare la dinamica dell'incidente e per regolare il traffico. Cambiamo argomento, prenderà il via domani mattina la diciottesima edizione della mostra Mercato del Tartufo Bianco di San Pietro Avellana. In paese, come sempre, saranno allestiti stand e organizzate degustazioni, mentre nei ristoranti locali, grazie a una convenzione, saranno proposti menu turistici con piatti tipici locali abbinati al Tartufo Bianco. Tra gli ospiti della manifestazione è anche i micologi della Columbia University di New York. In collaborazione con l'Arsiam, sarà inoltre organizzato un corso di degustazione dell'olio. Venerdì pomeriggio, invece, c'è previsto un convegno incentrato sulla candidatura del Tartufo a bene immateriale dell'umanità da presentare all'UNESCO. Interverrà il presidente dell'Associazione Nazionale delle Città del Tartufo, Giancarlo Picchiarelli. Domenica, infine, sarà organizzato il treno del Tartufo che consentirà ai turisti di scoprire il territorio dell'Alto Molise e i suoi prodotti gastronomici. Si è esteso anche alle altre scuole lo sciopero partito dal liceo scientifico di Isernia. Gli studenti si sono incontrati all'Officina della Cultura dove hanno discusso sulle possibili forme di protesta alternative da attuare a partire dalla settimana prossima. Sergio Di Vincenzo. Partita dal liceo scientifico, la protesta degli studenti si è estesa a tutte le scuole della provincia. Oggi, durante una follata assemblea che si è tenuta all'Officina della Cultura di Isernia, sono state spiegate le ragioni del dissenso. Da un lato si dice no al taglio dei fondi e al possibile ingresso dei privati nel mondo della scuola. Dall'altro si esprime solidarietà ai professori del Majorana che di fronte all'ipotesi di vedersi aumentate le ore lavorative ma con la retribuzione invariata hanno sospeso i vari progetti che affiancano il normale corso di studio. Presto o tardi, questa decisione potrebbe riguardare anche altri istituti. Stiamo aspettando martedì che in pomeriggio ci sarà una riunione dei professori che decideranno come svolgere la settimana. Per ora, normalmente, sappiamo che sono stati bloccati tutte le uscite didattiche e i recuperi pomeridiani per chi non riesce a recuperare le materie e quindi è stata tolta una seconda possibilità per recuperare i rienti pomeridiani e attività extrascolastiche che ci fanno accedere ai punti di credito. Durante la manifestazione di oggi i rappresentanti di istituto e studenti hanno ragionato sulle possibili forme di protesta da attuare a partire dalla settimana prossima per non perdere ore di lezioni. Almeno per ora sono state scartate le ipotesi dello sciopero o dell'autogestione. Tra le idee in campo, quella di svolgere attività pomeridiane magari coinvolgendo gli stessi professori. Il progetto è proprio quello di organizzare eventi e situazioni come questa per farci sentire. Al di fuori dell'orario scolastico quindi niente scioperi, niente occupazioni? Questo ancora è da decidere però comunque per il momento sì al di fuori dell'orario scolastico proprio per non perdere ore di lezione mantenere comunque l'impegno scolastico però organizzando eventi e situazioni al di fuori. La nostra scuola non occuperà ma non è propenza cioè è propenza a fare altri scioperi poiché non è d'accordo per questi tagli di fondi e vuole continuare a fare delle attività extrascolastiche e non vuole che questi fondi devono essere utilizzati per magari per le guerre o altre attività che non sono rivolte agli studenti. Torniamo alla notizia con la quale abbiamo aperto il nostro telegiornale la commemorazione del decimo anniversario della tragedia di San Giuliano di Puglia il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha inviato un messaggio al Sindaco di San Giuliano Luigi Barbieri sentiamo Chiara Pallante Un messaggio che diventa un monito per tutte le istituzioni in un paese dove la stragrande maggioranza degli edifici scolastici non è ancora norma il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha scelto il decimo anniversario della tragedia di San Giuliano di Puglia per lanciare il suo appello a difesa della sicurezza nelle scuole Il doloroso ricordo dei 27 bambini e dell'insegnante che persero la vita ancora impresso nella coscienza del paese ha scritto il Capo dello Stato impone alle istituzioni il massimo impegno per garantire la continuità di politiche di intervento di messa in sicurezza degli edifici scolastici Il Presidente Napolitano ha inviato il messaggio direttamente al Sindaco di San Giuliano Luigi Barbieri ricordando la profonda emozione dell'intera nazione verso la comunità ferita dal sisma e in particolare dal tremendo crollo della scuola Francesco Iovine Napolitano ha rinnovato la sua affettuosa avvicinanza ai familiari delle vittime e poi ha rivolto un pensiero particolare ai loro compagni di scuola coinvolti nell'evento che ha segnato profondamente il percorso di crescita per aver saputo esprimere in questi anni un impegno e una forza d'animo straordinari Con questi sentimenti ha poi concluso il Presidente della Repubblica sono vicino a tutta la cittadinanza di San Giuliano di Puglia Intanto un cittadino di Agnone ha donato alla Chiesa di San Marco un concerto di campane dedicato alle vittime del crollo della scuola Iovine di San Giuliano di Puglia Sentiamo In pochi lo sanno ma Agnone ogni giorno dedica una preghiera ai bambini alla maestra che persero la vita tra le macerie della scuola di San Giuliano I loro nomi sono impressi sui bronzi di tre campane fanno parte del concerto installato sul campanile della Chiesa di San Marco nel centro storico della città alto molisana è stato donato da Alessandro Patriarca agnonese appassionato di arte campanaria sin da bambino l'idea di dedicare le sue campane alla tragedia che dieci anni fa sconvolse la nostra terra è nata così questa è nata da un momento così spontaneo perché io avevo già il concerto di campane pronto che doveva essere collocato in un'altra chiesa successivamente c'è stato il terremoto e praticamente mi mancavano tre campane per fare la scala campanaria così un giorno ho deciso di far fondere le tre campane con i nomi dei bambini morti a San Giuliano di Puglia e della loro insegnante suonano tutte le mattine alle ore 7 alle 12 alle 19 ricorda di quel terribile giorno di dieci anni fa e pensai subito al peggio in quanto in una scuola ci sono i bambini poi c'è stato il movimento anche dei vigili del fuoco di Agnone dei soccorritori del 118 di Agnone che poi nell'immagine noi li abbiamo riconosciuti purtroppo c'è stata questa disgrazia che nessuno mai voleva che accadesse è tutto termina qui anche l'ultima edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito e arrivederci grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti